L'inizio della partita contro la Bulle in classifica è al solito un po' contrario. Caccia via, caccia via. Vogliamo prendere gol? Ehi! Oh! La Vilpus Cibeno in contropiede, ballone interrompe. Lentamente prendiamo confidenza, qui un'azione di intolo. Usciamo! Dai, 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 alle, alle! Secondo, secondo palo, vanti, secondo! Devi metterla subito! Secondo! Ti piazzano così! Dai! Oh! Punizione di Gleian, nessuno tocca, pala al portiere. Ancora vallone, interrompe l'azione avversaria. No! Caccia, caccia via! Cross di Barbero, respinto, poi ripartenza avversaria, chiusa da Orlando. C'è, Italo, vieni, vieni a chiudere Italo! Vai! Sua, 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 gioca, gioca, subito! Subito! Che buono! E questo è subito! Bravo! Ci proponiamo in avanti, il tiro di Gleian fuori. Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, 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 dai! L'insieme di Giamberini, la caracca del portiere. Sì! Angolo di Giamberini, nessuno interviene in area piccola. Buonafepra Scagliarini che gridi appena alto. Sì! Cross di Barbero, ma nessuno si trova dall'altro lato, non va. Bene! Ci deve essere qualcuno dall'altra parte. Andrea, per tutti i suoi posti. Prova! Un! Scaglia per l'arrivo, scelgo per gli centrati, passaggio per il retto, che non va. Vai, gamberi in avanti, giù, facci una discesa! Guardalo, guardalo! Vai, prova! Prova! Bella! Nooo! Mano in area, rigore! Eh, allora? Che Giamberi calcia sul palla! E questa arriva palla con una vecchia scelta. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, cavallo pazzo, vai! Vai, aiutalo! Vai, aiutalo! Vai, ancora lì! Vai, di scelta! Tiro di Italo e ancora mani in area. Stavolta non sono scelta. Mano, bella! Tiro avversario, fuori. Disimpegno di Fertone, tra due e due in terra. Valveri in palo laterale. Non regaliamo ogni volta! Palla! Dalla rimessa, palla in aria. Tiro al bordo. Le nostre azioni a consigliere sono spesso un po' farraggimose. Prova, prova! Vai, ragazzi! Vai, ragazzi! Vai, grande Lollo! Eh, eh! Eh, niente! Via, via, via! Vai, ragazzi, ancora a giocare! Finizione avversaria, respinta dalla barca. Finizione avversaria, Marcellinaro Para. Ancora tiro avversario di controbalzo, alto. Italo sfonda sulla sinistra, ma il suo non è né tiro né un corso. Ma no! Ma cos'è questo tiro? Il secondo tempo, inizio con gli avversari in attacco. Ma ragazzi, vogliamo fargli fare il gol! Andrà noi, perciò perciò. Vieni, 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 vieni! Qui c'è una bella parata di Gigi. Ronzalo Spaglia viene fermato. Bella uscita alta di Gigi. Un fuori tutti. La Virtus Chibeno va a Rappetto. Tiro della Virtus appena alto. A Vallopazzo anticipa il porteremo e poi saluto. Dai! ma subito rischiamo l'uno a tre spaglia Italo, tentano sulla sinistra prova, butta in mezzo prima c'è Riccardo, c'è incredibile, mette in mezzo ma passala tira avversario, alto punizione del quattro, traversa punizione di gambero, parata non si abita più nemmeno in aria tira ostia tira fuori e nel finale c'è l'uno a tre pari